ok benvenuti, vedremo ora questa sera l'animazione di link set usando la tecnica dei frame con immagini trasparente vedete che qui abbiamo un insieme di oggetti sono tutti dei link set composti in questo caso ognuno da tre prime attaccate insieme due cubi e un cilindro l'idea è quella di fare l'animazione tipo quella di un pistone vedete che sono un po' rossicci perché con ctrl alt t ecco normalmente sono trasparenti ma con ctrl alt t li riesco a vedere l'idea è che praticamente ogni volta che si fa l'animazione si scorra questo insieme di frame e si rendano non trasparenti alternativamente prima la primo frame, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto o quelli che sono quindi la tecnica costruttiva consiste fondamentalmente nell'avere delle cose molto simili ma con delle differenti posizioni per farlo partiamo dal secondo frame, questo e proviamo a simulare uno stantuffo quindi andiamo in edit linked e proviamo ad allargare ecco così quindi fare una specie di animazione in cui lo stantuffo si dilata andiamo anche nel terzo frame e facciamo questa cosa il quarto frame può essere quello e poi per dire questo qui possiamo anche farlo ancora un pochino più piccolo ok? quindi questo dovrebbe fare una specie di animazione in un stantuffo che assume viceversa queste queste tre poi torna giù e così via allora per farlo dobbiamo definire l'ordine e la sequenza di questi frame e questo lo facciamo togliamo edit linked dando una numerazione al frame quindi usiamo la descrizione per dire per indicare qual è il frame quindi questo qui sarà il frame 1 questo qui è il frame 2 c'è già nella descrizione lo metto qui mettiamo il frame 3 frame 4 e frame 5 allora lo script che c'è dentro questi oggetti questo script qua è abbastanza semplice è uno script che si limita a capire leggendo la descrizione qual è il numero del frame e poi si mette in ascolto su un canale il 100 ad esempio su questo canale quando viene detto qualcosa su questo canale va a vedere se la cosa pronunciata il numero è uguale al frame corrente e se è uguale al frame corrente viene posto alfa uguale a 1 quindi viene visto l'oggetto in formato opaco quindi alfa uguale a 1 altrimenti alfa diventa 0 quindi rimane trasparente per provare a vedere se questa sequenza funziona basta provare a scrivere sul canale 100 barra 101 facendo barra 101 dovrebbe rispondere in teoria soltanto il primo ok quindi con barra 101 vedete che si vede il primo frame con barra 102 vedete che il primo frame rimane trasparente e così via quindi se noi fossimo in grado di dirgli barra 100 e poi dargli consecutivamente questo ordine dovremmo ottenere questa animazione allora questo lo otteniamo vedete che qui ho dovuto fare il reset degli script lo otteniamo con un apposito timer un contatore questo che conta i frame da 1 a 5 e lo fa 2 volte o 3 volte questo script che abbiamo qua dentro vedete che conta il numero di frames a 5 il numero di iterazioni a 3 e quindi quello che fa è semplicemente quello di quando viene toccato di ripetere per il numero di iterazioni che sono 3 quindi per 3 volte ripete la sequenza di frame partendo da 1 a 5 e quindi genererà progressivamente l600 col numerello progressivo e man mano che fa il ciclo quindi questo ciclo va da 0 a 2 ad esempio e questo qui va da 1 a 5 e in questo modo dovremmo ottenere l'animazione complessiva quindi semplicemente proviamo a cliccare questo contatore e vedete che viene effettivamente fatto questo giro ora adesso l'abbiamo rallentato questi oggetti possono essere messi in realtà uno sopra l'altro quindi possiamo prendere questo oggetto lo duplichiamo questo oggetto lo duplichiamo perché se vi farò vedere è che li metteremo uno attaccato all'altro quindi adesso al momento ci limitiamo a duplicarli dopodichè cerchiamo di farli sovrapporre quindi adesso io sto usando Firestorm che consente di copiarsi la posizione in modo tale che posso prendere il secondo e sovrascriverlo e fare l'incolla della posizione ecco in modo tale da averli tutti sovrapposti ok allora a questo punto essendo tutti sovrapposti togliamo la trasparenza vedete che esistono tutti i pezzi che non c'erano e poi clicchiamo su questi in modo tale da ottenere l'animazione voluta vedete che nel momento in cui sono sovrapposti abbiamo effettivamente un'animazione di uno stantuffo che si apre e si chiude tre volte si può velocizzare l'animazione perché il contatore al suo interno ha uno slip proprio per ritardarlo perché altrimenti è troppo veloce se noi mettessimo uno slip basso tipo 005 l'animazione verrà eseguita molto più velocemente quindi cosa facciamo clicchiamo questo e vedete che abbiamo allora in quel caso lì un'animazione lineare della parte dietro invece qua abbiamo l'animazione praticamente fatta sul pezzo che è poi quello che vogliamo fare piccola accortezza ricordatevi quando fate questo genere di cose di metterci proprio nella descrizione dell'oggetto il numero del frame ricordate di fare il reset dello script perché a volte se viene realizzato in un posto diverso potrebbe non prendere il listen giusto e ricordate appunto di se per caso avete bisogno di più frame dovete cambiare il numero qua che compare quindi se fate 10 frame cioè 10 posizioni diverse qui dovete mettere frames 10 e non 5 e così via quindi a questo punto direi che avete il vostro obiettivo il fatto che faccia soltanto un numero di iterazioni serve per evitare di pesare sulla sim perché un'animazione del genere se fosse perennemente in esecuzione sarebbe un qualche cosa che disturba molto la sim quindi se vogliamo un'animazione che non faccia tanto lag occorre abilitarla o soltanto al touch come vi ho visto adesso oppure anche si potrebbe abilitarla con altri eventi come ad esempio l'avvicinarsi di un avatar e questo lo si fa con un sensor lo possiamo vedere oppure quando qualcuno dice qualcosa in chat o altri eventi tipo anche ci passo sopra lo attraverso o lo tocco come in questo caso allora credo che l'animazione più o meno abbiamo detto tutto ci sentiamo buona serata